Il momento in cui mi sono fermato me lo ricordo benissimo. È stato il primo di aprile del 1986. Dando retta a una serie di miei amici mi sono trovato un lavoro fisso. Mi sono fermato esattamente per 40 giorni. Dopodiché mi sono licenziato, era il 10 maggio, e mi sentivo Robin Hood. Grazie per la visione!